Alla Champions League c'è anche spazio per chi nella prima fase non era andato bene, non aveva raggiunto le sue aspettative. I Lombardi sono nel giro nemitropa, oggi incontrano la prima vittoria contro i Titans. 3-1 con annessa rimonta, quindi proprio una bella partita in cui emerge Signorini Matteo con una doppietta ed è il migliore in campo. Col Presidente è venuto a fare l'intervista alle stelle della cecchia. Devo dire un risultato molto importante perché questo risultato ci permette di sognare, sognare e soprattutto lavorare, impegnarci ancora di più come abbiamo fatto questa settimana grazie al nostro mister. Ha preso in mano la squadra e è cambiato tutto, è cambiato l'ambiente, siamo più uniti, solo grazie a lui per questo. Io dedico questa vittoria al nostro mister. Perché è lui, il più importante della squadra è lui. Non mi troppo in cui passano le prime tre del girone su quattro, qual è la vostra aspettativa adesso? Diciamo che la nostra aspettativa è una delle più umili, noi puntiamo al terzo posto. Poi se arriverà una sorpresa siamo pronti ad accoglierla. Abbraccio aperto. Ringraziamo i lombardi e in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie papà.